Il futuro di Zang all'Inter, a mio avviso, augurando a Zang che tutto questo si risolva nel migliore dei modi, è un futuro estremamente problematico e incerto. Trovare chi si fida sia di una società amministrata in questi ultimi anni con dei passivi esagerati, se vogliamo anche rispetto ai successi ottenuti. Attenzione, attenzione, un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Buona domenica a tutti voi, è partita, come vi ho detto ieri, la macchina del fango nei confronti di Steve Zang. Un personaggio che fino a qualche giorno fa era tenuto, diciamo, molto 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 sotto l'ala protettiva sia dei media che degli addetti ai lavori della Federazione Italiana Giococaccio. I quali non si sono mai chiesti dove è questo personaggio, ma ecco che siamo alle porte della scadenza del presito. E quindi Occhi potrebbe prendersi una squadra indebitata, come ci spiega in questo video Ravezzani, che vi invito tutti ad andare a vedere. Metterò il link in descrizione qua sotto, così vi andate a vedere la supercazzola che ha fatto sui conti dell'Inter. Due cose a detto giusto e poi la confessione finale. Ragazzi, dopo ieri, dopo il video di ieri, della confessione degli interisti che finalmente anche loro ammettono che hanno un presidente, visto che se ne sta andando, che rischia la galera, lo hanno scritto addirittura loro nelle pagine online dei loro pseudo giornali, arriva anche finalmente la confessione e le scuse da parte di Ravezzani che ammette che ci sono stati degli argomenti che sono stati trattati in maniera molto differente. Lui è uno di quelli che ci ha tenuto molto a trattare gli argomenti in maniera differente, ma molto differente. Adesso che Zhang non serve più, l'Inter si deve salvare tutto il letame, deve andare addosso a Zhang. Vi ho dato il tempo di svegliarvi, mangiare, prendervi il vostro caffè e poi guardarvi con calma questo bel contenuto. Ma naturalmente, come sempre, io vi chiedo di mettere un bel like per supportarlo e condividerlo, condividerlo, perché deve essere condiviso. Questo è il modus operandi dei media e dei giornali. Quando una cosa funziona e va, bisogna difenderla. Quando non serve più, distruggiamola. In questo momento non serve più. Le parole di Ravezzani in questo video dimostrano proprio che il giornalismo ormai non ha più quasi senso. Ormai Ravezzani mi dà molto, molto spunto su cui lavorare, ma non è colpa mia, assolutamente. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto. Non dimenticarti di commentare con il tuo pensiero, ma fallo solo alla fine del video, altrimenti non ci capirai bene molto di quello che è successo. Ormai la situazione la sappiamo. I debiti dell'Inter ammontano a circa 800 milioni e ce lo spiega questo lui. Sappiamo che l'Inter ha dei debiti, che è un indebitamento che è calcolato in 800 milioni di euro, ma alcuni di questi sono assolutamente normali per una società di caldo. Insomma, tanto normale, 800 milioni di debiti. Non sono visto che, come vi ho detto nei video precedenti, chiedo scuse, puntualizzo ieri. Grazie ad Arcangelo Gabriele che mi vede, mi segue e quando sbaglio me lo dice. Grazie, le critiche e soprattutto, non le critiche perché queste non sono critiche, sono consigli, sono sempre bene accetti qua dentro. Ieri forse nel video ho detto Salernitana. Quando parlai di una squadra mandata in default per pochi soldi, era la regina. Anche il Chievo, naturalmente, come mi consiglia Arcangelo, è stata mandata alle rovine, per pochissimi soldi, quindi chiedo scusa per chi avesse visto il video di ieri dove dicevo che era la Salernitana, ma della Salernitana mi è rimasto impresso uno degli episodi più scandalosi dell'epoca del VAR, il fuorigioco con un uomo che teneva due metri in campo tutta la squadra. Detto questo, andiamo, torniamo al discorso di prima, perché 800 milioni di debiti, solo la società, non si parla dei debiti di Zhang. Attenzione, 800 milioni, come mi dice l'amico Arcangelo, che inviterò in una live, quindi attenzione, attivate la campanellina perché a breve ci sarà una live dove un milanista, non uno juventino, racconterà un po' tutte le beghe che ci sono attorno al mondo del caccio. Diciamo tutto il marcio del caccio, quindi attivate la campanellina a breve, domani penso, in questa settimana sicuro ci sarà la live, vi aspettiamo in tantissimi per capire un po' quello che sta succedendo. Detto questo, si ritorna al discorso di prima. 800 milioni sono quelli che noi sappiamo, i debiti, perché poi non sappiamo cosa c'è sotto, soprattutto gli interessi dei debiti. Poi si parla del resto dei debiti che ha Zhang, Zhang che è diventato un uomo brutto e cattivo. Ma le parole che mi fanno molto gioia sono le scuse, perché alla fine praticamente sono delle scuse per il trattamento che hanno ricevuto determinati argomenti rispetto ad altri. E finalmente Ravezzani, Ravezzani che quando c'è da metterci la faccia ce la mette, spesso facendo delle sparate un po' assurde. Ma in questo caso è giusto, è stato l'unico che è riuscito a dire queste parole. Noi le ascoltiamo e poi le commentiamo alla fine, perché veramente ci fanno capire un po' però il come mai, come mai, voi non uscite proprio mai, perché i media ci stanno attenti a quello che devono raccontare. C'è stata una colpa da parte dell'informazione, da parte nostra, mi metto anch'io di mezzo, anche se insomma ritengo che siamo sempre stati quelli che prima con Yongong Li e adesso anche con Zhang abbiamo comunque sollevato tra i pochissimi delle obiezioni. No, no, non hai sollevato delle obiezioni, perché la domanda più semplice che si poteva fare era dov'è Steve Zhang e invece avete aspettato che la sentenza, che già Hong Kong era definitiva, dove già Zhang aveva fatto i suoi tre mesi di carcere, fosse stata attiva o definitiva anche in Italia, perché fino a prova contraria, anche se lì in galera per voi, fino a quando qua il giudice non vi dice che è stato condannato anche per la legge italiana, ebbè, è un santo. E quindi per questo voi non avete mai fatto o messo dei dubbi, anzi avete sempre portato avanti l'idea che Zhang sta lavorando bene anche se da lontano, ve le ricordate? ... sulla proprietà cinese, in questo caso dell'Inter, c'è stata una disattenzione notevole nei confronti di Zhang. Noi siamo partiti in quarta, l'informazione è partita in quarta. attenzione, noi siamo partiti in quarta, poi l'informazione è partita in quarta, ma per che cosa? Andiamo a sentire... ... per esempio sulla vicenda Juventus e sugli aumenti di capitale che sono stati fatti grazie alla Juventus, ma secondo Taluni anche usufruendo in maniera spregiudicata delle plusvalenze. Questa è l'accusa sulla quale dovrà poi la giustizia in qualche modo esprimersi, quella sportiva ha già detto che le plusvalenze erano fittizie, vedremo cosa dirà la giustizia ordinaria, però insomma... ... su questo non commento perché già ha detto lui, la giustizia sportiva ha già fatto tutto, la giustizia ordinaria aspetta, invece per la plusvalenza di Napoli, Lille, Osimène, la giustizia sportiva aspetta come quella ordinaria. Uno strumento, diciamo così, spericolato, secondo questa è l'accusa, falso, secondo l'accusa, grazie al quale il presidente della Juventus, la proprietà della Juventus, ha potuto in qualche modo dilazionare gli aumenti di capitale. Ci sono stati adesso, c'è stato un grande scalpore sul fatto sia stata più o meno vera la vendita di un fondo, Elliot, ha un altro fondo, Redbird, che secondo Taluni è stata una vendita fittizia perché non si voleva avere una doppia proprietà. Sono due, chiamiamoli, ipotesi di rato sportivi, quella della Juve. Aspetta, facciamolo finire. Poi già l'ingiudicato, quella del Milan in itinere. Ecco, quello della Juve, aspetta, sono qua, quello della Juve è già giudicato perché quello della Juve deve essere giudicato immediatamente e ci ricordiamo tutto quello che succede, di cui non vogliono neanche più parlare, anzi, tutto quello che è successo di cui non vogliono nemmeno più parlare, le intercettazioni, perché adesso col caso Dossieraggio, bravo, fammi un bel primo piano, perché adesso col caso Dossieraggio non conviene parlare delle intercettazioni perché non si capisce da dove arrivano e allora è meglio non parlarne. Ascoltiamo ancora lui. Che fanno discutere, che sono stati stigmatizzati a volte. Quello del Milan molto meno rispetto a quello della Juve. Anche in maniera durissima, non parliamo poi di intercettazioni e quant'altro. Ecco, mentre succedeva tutto questo, c'era un proprietario dell'Inter che aveva una sentenza ingiudicato a Hong Kong, un'altra in itinere che è arrivata adesso in Italia su una montagna di denaro non restituito. Un presidente dell'Inter che risultava nulla tenente e che girava su auto di lusso prese in affitto in Svizzera, perché in Italia lui risultava nulla tenente. Ecco, mi pare che il tipo di situazione personale, finanziaria e da un punto di vista anche giudiziario che riguardava Steven Zhang, ormai da un anno e mezzo, due anni, da quando erano filtrate queste notizie, fosse oggettivamente molto più grave, molto più seria di quelle che sono state addebitate così pesantemente al presidente della Juventus e adesso all'amministratore delegato e alla proprietà vera, finita o presunta del Milan. Tutto questo però è passato in un'indifferenza totale colpevole e secondo me anche ingiusta, soprattutto quando viene parametrata a quella che invece ha messo alla Berlina sia la Juventus che il Milan in quest'ultimo periodo. Su questo bisognerebbe riflettere. Bisognerebbe riflettere, è anche parecchio caro mio, bisognerebbe riflettere anche parecchio. Come mai non ve ne siete accorti prima se sono due anni, tre anni che questo qua gira con le macchine della Svizzera perché in Italia nulla tenente. Cioè, io penso che siamo vicini veramente alla chiusura del cerchio e quindi il mio canale sta quasi per non avere più senso perché ormai sono loro che dichiarano le loro intenzioni, che ne confessano il loro operato fino adesso. Questo è il giornalismo che abbiamo avuto fino ad ora e non è soltanto Ravezzani che finalmente in un, che ne so, bagno di umiltà si guarda un pochettino allo specchio e vede che ha fatto fino adesso un'informazione incredibilmente controcorrente. Controcorrente che va all'opposto della verità perché naturalmente sappiamo che il volere popolare vuole quello e adesso è ora di tirare fuori tutto quello che non hanno tirato fuori prima perché il motivo è semplice perché ormai Zang non serve più all'Inter. Stanno separando le due cose come se Zang e l'Inter non fossero una cosa sola, come se il proprietario e la sua proprietà non sono una cosa sola. Il proprietario rischia la sua proprietà assolutamente niente. Questo è il messaggio che ci vogliono mandare. Detto questo, il video finisce qua, se sei arrivato fino a qui sei un supereroe, non ti rimane che mettere un bel like e condividere in tutti i tuoi social questo contenuto. Facciamo vedere un pochettino come funziona il giornalismo in Italia. Iscriviti al canale, ripeto, è totalmente gratuito e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Noi ci vediamo ad un prossimo contenuto. Buona domenica a tutti. Ciao, io. Ciao, io.